Altri commenti dai tifosi della Turris con gli amici Peppe e Carmine. Ciao Peppe! Io credo un domani a un risultato di 2-0. Per chi? Chiediamolo. Per la Turris, per la Turris. Quest'amore per la Turris da quanti anni? Da sempre, da sempre. Brava, brava, brava. Il giocatore che vi ha più colpito in questa stagione, qual è stato? Il giocatore più forte della Turris, secondo te di Carmine? Vitale. Attaccante svelto, rapido, di manovra, un bel giocatore. Sì, vitale, senza noi. La partita più bella del campionato? Non mi piace come gioco la Turris però. Cosa che non ti piace del gioco di Fabiano? Il gioco, non c'è un gioco. Non c'è un gioco la squadra? La partita bella non ne ho mai viste. Invece per te? La partita è fortunata. Solo è fortunata. L'allenatore ideale per una piazza come Torre del Greco, secondo te? Era meglio Mandracola. Per te? Per me ci volessero un Mazzarri. Visto che Mazzarri non può venire. Il nostro augurio che sia domani una bella partita di sport e vinca il migliore. Il saluto a vostro e radioascoltatori di Radio Caserta Nuova e del gruppo La Voce del Mercoli, sempre di Radio Caserta Nuova, ad oggi oltre 2.000 iscritti. Grazie del vostro intervento. Grazie a voi. Forza Turris. Forza Casertania. Che c'è sempre la Coppa Italia. Sempre Forza Turris. Anche questo ci vuole. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.